Benvenuti ragazzi, benvenuti a tutti. Oggi andiamo a vedere come smontare il Turtle Beach Recon Controller per sistemare le levette analogiche. Allora, andiamo subito a vedere cosa bisogna fare. Prima cosa, cappottiamo il Turtle Beach a battutone cappottare la tartaruga e andiamo a vedere le viti da togliere. Una, due, tre, quattro, cinque, sei e sette. Premesso che sono tipo dieci anni che non vedo viti nascoste come gli infami sotto gli adesivi. In questo caso ne abbiamo due. Perfetto, tolte tutte e cinque levitarelle ovviamente ho fatto dei tagli perché sennò affittavo l'anni de Cristo 33 si va a fare leva con un cacciavite o magari con qualcosa anche più opportuno si va a fare leva in questo punto del controller. Quindi dobbiamo alzare questo punto del controller e sfruttando questo spazietto qua andiamo a fare cacciavite, chi se ne frega e come vedete sfruttando questo punto io vi consiglio di farlo con un atteso un po' più consono ma sfruttando questo percruccio andiamo a staccare questi qui laterali questi, anzi ho quelli interni quindi facciamo così e poi utilizzando questo percruccio come vedete vengono via questi. non vi consiglio di farlo col cacciavite a me frega poco perché comunque il controller ormai ormai soffre di rifting ha un joycon quindi ha un, no un joycon ha una levetta analogica quindi temo che me ne freghi realmente poco di lasciassegni però io vi consiglio di utilizzare qualcosa che non violenti il controller come ho fatto io vedete potete farlo tranquillamente anche con un qualcosa più consono che non va a rovinare la plastica del controller ripeto a me non frega nulla quindi lo sto facendo molto molto alla gallona però se vedete ragazzi se riesce anche con qualcosa che non deve ammazzare il controller quindi si è staccato e stacchiamo anche questo quello che vi ho visto là non era un pezzo di plastica per fortuna no non ho ancora spaccato nulla quasi però non lo ha spaccato e anche questi li mettiamo in punti dove sono pronti per essere buttati fatto questo ho girato il controller e lo sollevate allegramente e per questo lo possiamo buttare tranquillamente ora voi qui vedete che io già l'ho staccato ma questo stava collegato qua io già avevo fatto degli adeguati controlli però questo teoricamente stava così quindi semplicemente voi con l'unghietta e con delicatezza alzate questa l'unghietta qui e sfilate il flex o poi dobbiamo levare questi qui uno e due anche qui con delicatezza molta delicatezza sfilateli e metteteli da parte fatto questo abbiamo qualche vitarella io ne vedo una due tre e quattro quindi andiamo a togliere anche queste quattro vitarelle ripeto una non so se vedete una due tre e quattro quindi sempre con calma e con pazienza andiamo a rimuovere anche queste vitarelle non so che cacchio l'avevo pulito con un pulitore secco per contatti ma a quanto pare troppo secco non era che mi ha lasciato proprio il laccio le bava dell'umara abbiamo tolto le viti e io già sento che viene via il pezzo sotto e se viene via pure la vita io sarei molto più contento ecco qua esce ho cambiato la vite ora come vedete sta venendo via è molto importante non girarlo perché sennò i tasti ve li dati in faccia con calma e con pazienza fate così ed ecco qua la nostra scheda madre del controller ora noi da qua tecnicamente possiamo così non so se si sfilano dovrebbero sfilarsi sì eccolo uno e due e noi da qua possiamo leggermente intanto facciamo così ok questa è attaccata non ciò perdiamo e noi da qui possiamo andare a dare una soffiata con un prodotto all'interno dei due stick analogici abbiamo nel nostro caso il solito VD40 detergente per contatti asciugatura rapida non mi vale tanto rapida però facciamo usiamo questo magari uno e due ci abbiamo veramente fatti gli sciacquoli con sto cosa però ok facciamo un po' così ok e rimontiamo il tutto con calma e con pazienza ci rimontiamo le leve analogiche questa stava così ok guarda come rimontiamo per cacchio con calma e con pazienza le rinfiliamo dove vanno infilate ragazzi attenzione perché questo non è come vedete non è proprio guardato così come non è proprio guardato il pezzo dove andate a infilarlo quindi come vedete questo è tipo per farvi capire la forma di meno quindi andrebbe infilato così questa è da fare attenzione se no se era in forza che lo dovete buttare dopo lo dovete buttare per forza ok andiamo a rimontare il tutto quindi andiamo a rimettere questo che non l'abbiamo girato per non perderci tutti i tasti perché se noi lo giravamo i tasti andavamo a raccogliere fino sulla tibutina e va sicuro che da casa mia è abbastanza distante e andiamo a rinfilare il tutto con la massima cura se sentite scricchiolare smadonna so io ora primo questo è collegato questo è collegato andiamo a vedere che sia tutto ancora collegato perfettamente rimettiamo le nostre vitarelle che non ci siamo persi per mia fortuna rinfiliamo le vitarelle che vanno sempre una qui intanto le appuntiamo una parallelamente di qua è sempre buona cosa un consiglio che vi do tenere sotto al banco del lavoro un magari non questo però un panno in spugna in modo che se cascano le viti non li imbazzano e vi rimangono dove cadono certo che se poi andate a vitarle sul pavimento un povero la sede cercata allora questa una non stringete la morte perché tanto vanno sulla plastica non c'è bisogno di stringerla a morte come sto facendo io perché sennò spanate cioè rischiate non di spanare la vite quindi la seconda volta che andate apri l'aprite più col cavolo oppure te rompe la frettatura della plastica sotto e non è qualcosa che noi vogliamo fare mettiamo le altre due viti andiamo a rimettere questo se no faccio come prima che me lo sono dimenticato quindi apriamo qui fate piano perché se salta questo connettorino questo fermo di plastica voi non potete più mettere il fermo come vedete questo serve il chiancetto a tenere fermo il cavo se rompete questo purtroppo diventa un casino ok vediamo che l'abbiamo messo dritto e drittissimo drittissimo come il fallo di rocco adesso va molto più bene molto più dritto vedete che poi sul cavo c'è un 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 disegnino che serve proprio a farvi vedere hop là che è dritto dritto come il rocco barocco come il calcarocco allora rimettiamo sopra questa magari mi è sarà meglio no prima mettiamo questo già mi stava a dimenticare qualcosa e attenzione perché non sono tutti dello stesso lato quindi faccio vedere questo con la scritta di combat sopra come vedete questo combacia ma se avessi messo quest'altro come vedete non avrebbe combaciato quindi non vi potete sbagliare perché nel caso io avessi messo questo non ci sarebbe stato modo di metterlo vedete quindi automaticamente l'unico che ci combacia è quello dalla parte sua attenzione quando andate a collegare anche questi perché sono abbastanza fragilini vi faccio vedere come se rompono se volete e li colleghiamo uno qua hanno un senso quindi attenzione se devono essere girati hanno un senso e uno mettiamo di qua come dicevo prima non potete sbagliare il senso perché come vedete questo va solo di qua e questo va solo di qua per fortuna magari ok andiamo a mettere pure questo qui faccio vedere che hanno un senso di essere infilati così hanno una tacchetta come vedete la plastica ha una tacchetta qui per essere infilata certo che fa queste cose con tutto in bilico è bellissimo è bello che faccio questi tutorial molto grevi per riparazioni ma va sicuro che non lavoro così lavoro decisamente meglio di così ok fatto questo non ci siamo dimenticati nient'altro andiamo a mettere la copertura assicuriamoci che tutto sia messo bene e andiamo appoggiare la nostra copertura eventualmente andiamo anche già a fissare questi che ci faranno da da apporto questi ovviamente vanno come avete visto a incastro come li abbiamo tolti vanno dimessi a incastro non fate caso che è tutto un giallito ma il mio controller personale è quello ovviamente che uso su Xbox 6DS di base andiamo a rimettere 1 2 3 4 5 6 e 7 viti e abbiamo finito partendo da quella censale che mi ispira fiducia una volta rimesse tutte e 7 le viti estrette correttamente non ci resta che caricare il nostro gioco preferito e goderci la nostra riparazione grazie a tutti per aver visto questo video io vi saluto ciao ragazzi e buon gioco grazie a tutti